eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo su fortnite ragazzi sono arrivate un sacco di novità in questi minuti quindi volevo condividerle con voi come sempre prima di iniziare vi invito a lasciare subito un bel mi piace per supportare questo nuovo appuntamento vedremo se giornaliero abbiamo visto e state rivedendo il primo gameplay praticamente della nuova modalità fuga gateway lmt che praticamente sarà svelato praticamente questa notte o meglio il gameplay l'abbiamo visto ma questa sera ci sarà una nuova live stream al summer skirmish ospitato dal pax west alle ore 23 dove saranno mostrate tutte le sfide e le ricompense gratuite in arrivo con la patch height stakes versione 5.40 questa live la potrete seguire su twitch.tv slash fortnite oppure sul sito di epic games e quindi questa sera ci sveleranno praticamente l'abbigliamento wildcard nuovamente le sfide gli aggiornamenti delle mappe e quasi sicuramente nuovi elementi cosmetici e oggetti aggiunti dal gioco tra cui praticamente il rampino che abbiamo visto questa mattina per la prima volta questo praticamente quello che accadrà questa sera ma durante la live di ieri sera sono state scoperte ben due notizie la prima riportata dallo youtuber noaj456 che ha pubblicato proprio un video dove praticamente è stato scoperto un account che può accedere a tutte le skin e le impostazioni predefinite soprattutto una cosa che veniva chiesta a gran voce dalla community era l'utilizzo e la scelta delle skin predefinite sembrerebbe che ci sarà una possibilità in futuro all'interno di fortnite perché è stato trovato proprio durante questa live tenuta praticamente ieri da fortnite la possibilità di scegliere fra otto diversi personaggi predefiniti quindi cosa veramente molto ma molto interessante che era stata praticamente richiesta dai giocatori di fortnite staremo a vedere quando l'epic games introdurrà questa novità chiudiamo il video informativo con una notizia veramente molto interessante il cambiamento della mappa che arriverà con la versione 5.4.0 infatti durante la live stream di queste ore si è visto come dusty divot è cambiata proprio all'interno di questa mappa ci sono stati cambiamenti sembrerebbe che sia stata aggiunta addirittura un gelataio un negozio di caramelle a giudicare il cartello che è apparso fuori dal negozio ma oltre al cambiamento della mappa dusty divot quindi di questo piccolo pezzo di mappa sembrerebbe che ci sarà anche una modifica a tomato town che si trasformerà in tomato temple l'abbiamo notato nella live sempre di ieri dove c'era il gameplay appunto di questo nuovo personaggio di questo nuovo di questa nuova wildcard outfit quindi due cambiamenti sembrerebbero essere in vista con l'aggiornamento 5.40 quasi sicuramente sarà una mappa molto ma molto diversa soprattutto con dusty divot molto più pulita e modernizzata e questo cambiamento su tomato town ci aspettiamo un aggiornamento molto corposo questa versione 5.40 che si vocifra arrivare domani o al massimo giovedì con questo aggiornamento vi darò ovviamente aggiornati in queste ore su tutti i cambiamenti più importanti sul mondo di fortnite qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate e arriviamo almeno a 500 di piace per supportare questo nuovo appuntamento e noi ci vediamo ad un prossimo video